Trofeo Sanremo, gara patrocinata della Federazione Italiana Golf, ciò significa che assegna dei punteggi valevoli per il ranking nazionale delle categorie giovanili, quindi acquisizione di punti per entrare nelle classifiche di merito della Federazione Italiana Golf. Grosso successo, 136 giocatori, con più di 100 giocatori provenienti da mezza Italia, da Roma fino a Lombardia, Veneto. L'appuntamento tradizionale mi dicevi? L'appuntamento tradizionale ormai si svolge da più di 20 anni e negli anni assume sempre più un maggior valore, anche perché il livello di gioco si sta progressivamente abbassando e è una gara riservata solo ai giocatori più bassi di handicap. E ho visto che negli anni questo valore si sta sempre di più abbassando. Si sta abbassando anche l'età, se non sbaglio, perché visto che quelli sono i vincitori di questa edizione sono molto giovani. Direi di sì, oltretutto essendo una gara riservata ai giocatori veramente forti, diciamo che è più caratterizzata dai giocatori giovani. E pur non sapendolo la grossa massa delle persone, ci sono parecchi giocatori giovani. Soprattutto, non so, l'abbiamo già detto, probabilmente nel nostro circolo ci sono un'ottantina di ragazzi fino a 18 anni, che sono tanti su 500 soci. Sono due i giovani vincitori di questa edizione 2008 del Trofeo Sanremo, sono qua di fianco a me. Qua è per prima Anna Ravera, che viene da Arenzano. E di fianco a Anna c'è Alessandro Grammatica, che invece ha giocato in casa. Allora, Anna, io immagino che sarai molto contenta di vedere il tuo nome iscritto nel prestigioso albo del Trofeo Sanremo. Sì, direi che è stato molto bello, dato la scorsa stagione che invece non è andata molto bene, mi auguro che questo inizio possa garantire delle emozioni per la stagione che verrà. Com'è il campo di Sanremo? Direi che è un campo che a primo impatto può sembrare molto semplice, facile, corto, ma in realtà poi nasconde numerose insidie. Quanti anni hai e quando hai iniziato a giocare a golf? Ho 17 anni e ho iniziato a giocare a golf circa 5-6 anni fa. E un'altra vittoria da aggiungere al lungo elenco di vittorie? Eh sì, mi mancava. Era la gara che giocavo sempre male, finalmente siamo riusciti a vincere, mi fa sempre piacere. Parliamo invece un attimino di quelli che sono stati i tuoi successi, ma soprattutto quali sono le tue ambizioni e le tue prospettive future? Il primo obiettivo è quello di entrare in nazionale, visto che ci siamo abbastanza vicini. Ho sentito parlare. Non è un traguardo, ma è un primo obiettivo, che ti può garantire sostegno e gare all'estero, che sono esperienza personale. E poi il prossimo obiettivo è passare al professionista. Ecco, senti, io credo che sia stato fondamentale per te, che hai iniziato non da tantissimo tempo a giocare a golf, l'appoggio innanzitutto alla famiglia e poi di questo circolo. Sì, il circolo mi aiuta molto e lo ringrazio per i sostegni, ma soprattutto alla mia famiglia, che è importante. Bocca al lupo a tutti e due, a Anna e Alessandro, per un 2008 ricco di queste soddisfazioni, ok? Grazie. 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 Grazie.